ricordo bene la nostra prima vacanza in campeggio con la roulotte per i nostri figli fu un'esperienza indimenticabile stavamo tutto il giorno all'aperto in mezzo alla natura con tanti nuovi amici alle volte li vedevamo solo ai pasti già nel frattempo sono passati più di 30 anni oggi viaggio in elegance con la mia dolce metà in viaggio con ogni comfort e comodità restiamo incantati dalle bellezze che ci circondano sempre aperti a ricevere nuove impressioni ed emozioni ci immergiamo in mondi nuovi ci fermiamo e ci facciamo rapire e poi quando ci va ci rimettiamo in viaggio alle volte non sappiamo nemmeno verso dove ci fermiamo dove ci piace ci sono così tante cose da scoprire condividere le cose ci avvicina ci allontaniamo dagli itinerari abituali sublime natura una natura che ci lascia senza parole quando venite le nostre nipotine non stanno più nella pelle allora a presto abbiamo così tante cose da raccontare sulle piccole e grandi avventure del nostro viaggio i ricordi prendono vita ciò che ha avuto inizio molto tempo fa prosegue è così facile sentirsi a casa ovunque senza confini